Aprile 2014, giorno 25, Montelupone e la sua giornata particolare in occasione della festa della liberazione, ricorrenza che facendoci ritornare con la mente al passato ci fa capire al tempo stesso quanto sia bella la democrazia e la libera espressione del pensiero. Oggi il Comune, con la collaborazione preciosissima delle associazioni dei carabinieri in congedo e dei bersaglieri della sezione Montelupone e Potenza Picena, ha voluto commemorare questa giornata in un modo molto particolare, cioè facendo memoria dei nostri caduti, di caduti di tutte le guerre ma anche di chi è caduto in servizio per difendere la pace, la sicurezza e la nostra gente, il nostro territorio e quindi far diventare questa giornata del 25 aprile un giorno di unità, un giorno di ricordo e un giorno di scelta e di conferma dei valori fondamentali del nostro paese e della nostra nazione, la libertà, la democrazia e la sussiderietà e la pace, quella vera. A Palazzo Comunale, Sala Consigliare, Autorità Civili e Militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, pubblico locale e dai centri vicini. 25 aprile a Montelupone per la presentazione del libro Albo d'Oro dei Decorati al Valor Militare della Provincia di Macerata a cura di Mario Barbera e contributo conclusivo di Alberto Pellegrino. Visto che nella provincia di Macerata non esiste nessun libro che ricorda tutti i decorati, ho incominciato con il nastro azzurro, che sarebbe la istituzione del nastro azzurro, trafrandi e corati al Valor Militare, combattenti. E ho fatto queste ricerche e ho trovato 1700 motivazioni, dai quali 1400 nomi maceratesi. Maceratesi di nascita, però ci sono pure dei maceratesi di adozione, perché l'ecca seronatica, le casermetiche, più di 50 anni che sono qui nella provincia di Macerata, li abbiamo messi come maceratesi di adozione. E abbiamo fatto tutta questa ricerca, una ricerca che ha durato quasi 4 anni, perché a leggere tutte le motivazioni dell'istituto, del nastro azzurro di Roma, pagina in pagina, e guardare dove c'è scritto nato a viso, a cingoli, ho riportato questi nomi. Qualche nome mi è sfuggito perché, non essendoci riportando il comune di nascita, e questi sono andati persi per me, se io non ho nomi che conosco. A chi è destinata questa pubblicazione? Destinata questa qui era, il nostro principio era tutti i comuni, che scrivemmo a tutti i comuni, se voleva partecipare con un piccolo contributo, solo tre comuni ha risposto, Montelupone e altri due comuni, che adesso il nostro presidente ha il nome, non ricordo. E era per farlo ricordare a tutti i comuni che hanno loro un patrimonio di decorati, perché il decorato non è una persona qualsiasi, il decorato è un nobiluomo o nobildonna, perché ci ha avuto un qualcosa che bisogna mettersi di fronte e stargli sull'attente a questa gente. Ufficializzando nell'occasione la cittadinanza onoraria concessa dal comune al capitano Domenico Candelli, comandante della compagnia Carabinieri di Civita Nova Marche, ancora avanti con la giornata particolare del borgo in occasione della festa del 25 aprile, giornata che non bisogna mai dimenticare per continuare a vivere in democrazia e libertà. Sì, indubbiamente continueremo con un altro momento molto importante e diciamo anche toccante, che vedrà protagonista la figura, la persona della signora Giovanna Piermanni, della vedova Piermanni, moglie del scomparso maresciallo capo Sergio Piermanni, alla quale abbiamo proprio voluto omaggiare in sua memoria l'importanza della figura del marito che ha saputo veramente con alto valore e spirito di sacrificio e lasciare una impronta indelebile nella memoria non soltanto delle Marche ma dell'Italia morendo proprio eroicamente nel lontano 1977 in un conflitto a fuoco contro i malviventi. A Civita Nova Marche, alla quale poi si deve veramente il coraggio di aver portato avanti il ricordo del marito, in onore del marito ed essere sempre stata madrina ed essere stata sempre quindi presente in tutte le circostanze, gli avvenimenti che hanno visto appunto protagonista la figura e il ricordo e la memoria del marito appunto, il maresciallo capo Piermanni.